Boiano Castel di Sangro, croce Delizia Matesina, una gestione non adeguata nei momenti chiave della partita che ha vanificato la possibilità dei biancorossi di uscire dal campo in maniera positiva. Minuto 5 calcio di punizione, la posizione interessante è battuto da Tasillo, pallone verso l'aria, libera la difesa. Al settimo palla dalla sinistra per Ditora che di testa porta il vantaggio al Castello 0-1. Al quindicesimo il tiro di Barbato corretto da Diallo vale il pareggio per i padroni di casa 1-1. Corre il diciottesimo, palla al centro da Bergmans per Picozzi che non arriva sul pallone. Al venticinquesimo cross di Barbato per Diallo che a tu per tu con Brasesco riesce a superarlo ma la difesa giallorossa salva la porta. Subito dopo cross di Drini dalla sinistra e Barbato di testa colpisce il palo. Minuto 26 ripartenza ospite con lo scambio Bergmans di Tora, quest'ultimo salta Borreca ma sulla linea Drini evita la capitolazione. Alla mezz'ora Picozzi viene atterrato in aria stretto tra Tasillo e Zilingrischi. L'arbitro indica il dischetto, sul pallone va lo stesso numero 9. Borreca rispinge ma non può nulla sul tapin vincente della punta giallorossa 1-2. Al trentanovesimo Massaro, pressato, cade a terra, scalcia e colpisce un giocatore di casa. Tasillo reagisce e si accende la rissa a farne le spese, il numero 7 della squadra ospite che rimedia il rosso diretto. Sul finire della prima frazione di gioco cross di Drini per Barbato, devia in angolo Brasesco. La ripresa si apre nel segno del Boiano D'Angelo appena entrato, mette palla al centro. Brasesco esce in presa alta ma non trattiene. Perrella e Delia non riescono a deviare in rete e l'azione sfuma. Al diciottesimo viene espulso anche il tecnico ospite Bernardi per proteste. Il Boiano prova a riequilibrare il confronto sul cross di Barbato. Diello in tuffo non riesce ad impattare il pallone. Minuto 22 si fa vedere il Castel di Sangro con una conclusione di Ditora che Borreca rispinge. Boiano ad un passo dal 2 al 2 al trentottesimo quando Tasillo offre a Perrella che mette al centro un pallone morbido sul quale Dinucci non arriva per questioni di centimetri. La gioia del gol è soltanto rimandata, corre il minuto 43 quando Tasillo da calcio d'angolo mette al centro una palla per Dinucci che di testa gonfia la rete e regala il pari al Boiano. Nel terzo minuto di recupero il Castel di Sangro compie il sorpasso rimessa laterale battuta rapidamente da Sanna per Tadini tracciante dalla destra che per Borreca che esce in presa bassa ma si lascia scappare il pallone dalle mani. Ditora serve Picozzi che deve solo appoggiare in fondo al sacco il pallone del definitivo 3 a 2. Errore da penna rossa per il portiere dei Matesini che da professionista qual è? Chiede subito scusa ai suoi tifosi e successivamente alla società.